Presidente, quando si parte c'è sempre tanta emozione, qualsiasi, questa sia la categoria, eccellenza, promozione, prima categoria. Ecco, le società sono felici di avviare il loro cammino e poi di portarlo a conclusione. Ecco, il vostro aiuto è fondamentale. Sì, è verissimo, abbiamo scelto anche questo genere di manifestazione proprio perché riteniamo, così come per il campionato d'eccellenza, ma per tutti i campionati useremo questa specie di format perché riteniamo che il Presidente è l'uomo che è messo al centro, che gestisce la società, che con le proprie energie, con gli propri sforzi porta avanti questo lavoro in maniera incomiabile. E quindi vogliamo ripartire da lì, dall'uomo, dalle persone, farle stare insieme. Abbiamo voluto organizzare questa serata, una serata particolare nella quale possono stare insieme, si possono confrontare fuori dal campo. Se il Covid è stato il momento più difficile, forse dal suo insediamento, terramo è stato inserito nel campionato di promozione, qualche muso lungo però si parte. Ecco, come sarà ovviata questa scelta? Ecco, come andrà spiegata a tutte le società che si erano preparate per fare un buon campionato? Allora, intanto è semplice, noi siamo uomini delle istituzioni e dobbiamo rispettare quelle che sono le indicazioni che in questo caso il Presidente federale ci ha dato. Come ce le ha date? Seguendo quelle che sono delle norme che esistevano già da tempo e quindi il Sindaco poteva fare questa manifestazione di interesse perché ha capito che nella città il calcio rispetto a delle situazioni che molto probabilmente non appartengono nemmeno alla città si allontanava e quindi per scelta ha chiesto questo articolo 52,10 e noi, il Presidente federale, ha accolto questa richiesta perché comunque Terramo è un capologo di provincia, una città che comunque ha fatto calcio a livello professionistico, a livello importante e quindi nel momento in cui ha decretato questo articolo 52, quindi l'immissione e il campionato di promozione, noi, seguendo quello che, come dicevo prima, essendo uomini delle istituzioni, noi accettiamo quello che ci viene da parte del Presidente federale. Devono capire le società che il Terramo può ed è sicuramente anche bisogna, dipende sempre la chiave di lettura, le cose si possono vedere, quindi il bicchiere in questo caso può essere mezzo vuoto o mezzo pieno. È chiaro che normalmente qualcuno lo può vedere mezzo vuoto, quindi come il famoso intruso, perché il Terramo sarà inserito nei giorni B come quindicesima squadra in esubero rispetto all'organico attuale. Ma si può anche vedere dall'altra parte, quindi un'attenzione maggiore del campionato, un numero di spettatori maggiori che per cura di set up e altro potrebbe seguire un attimino le sorti della società ancora maggiore, degli sponsor che possono essere interessati a quella che è una situazione proprio perché c'è una società importante in questo albio. Quindi, ecco, bisogna sempre vedere da che punto di vista si vede. Io lo so che ci saranno dei problemi, lo sappiamo, sono emersi, ma sono dei problemi che esistevano prima del Terramo, che continuano ad esistere, cioè quelli delle strutture, dei problemi dell'agibilità delle strutture. Quindi non è un problema sicuramente collegato al Terramo, ma il Terramo molto abilmente con il seguito di tifosi, se lo avrà, perché bisogna capire anche questa dinamica, come si svilupperà, se lo avrà molto abilmente ci potrà creare. Ma non ci faremo trovare sicuramente impreparati. Abbiamo creato una commissione, questa commissione dà affiancamento alle società, per quanto concerne tutte le problematiche di ordine pubblico, e quindi lavoreremo insieme a loro per cercare di risolvere gli eventuali problemi che potrebbero nascere.